Ciao ragazzi, oggi mi trovo a fare un giretto in mezzo alla steppa, qui sta arrivando il camion, come vedete, e mentre faccio questa pausa breve mancanza di altro ci facciamo una pasta, no? Che poi non è una pasta, è carne, una bella fettina, con fagioli alla Matt Spencer diciamo. Questo piatto sembra, è saggio, come un pezzo di merda. Stiamo arrivando alla bispeccia. E' così, non vi canto, per vedere un po' com'è la situazione, guarda. Guarda la strada, non c'è nessuno. Questo è il canos. Ya vamos, ciao. Strangers in the night, ma vaffanguolo Strangers in the night. Io Strangers in the night. Ciao. 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 Grazie a tutti.